mamma si posso truccarmi con i tuoi trucchi no prendi quelli di tua sorella e se poi valentina si arrabbia adesso non c'è quindi non ti vede ok sono la giornata rosso ciao valentina ciao emily che c'è ti sei messa il mio rossetto lo riconosco mamma mi ha detto che potevo dammi subito il mio rossetto ok tieni grazie ma che cosa ma l'hai finito ma è perché ci ho fatto anche un disegno che cosa ti piace quante volte ti ho detto di non toccare le mie cose ma mamma mi ha detto che potevo zizza ok